Proprio mentre si preparava per venire a Ferrara, Can Dundar ha saputo di essere uno dei cinque candidati al premio Nobel per la pace. Quasi contemporaneamente il governo turco ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale accusandolo di aver minato la sicurezza dello Stato. Can Dundar lo ha riferito oggi con amare ironia durante la cerimonia nel corso della quale ha ricevuto il premio Politkovskaya 2017 in occasione della cerimonia inaugurale di Internazionale a Ferrara. Can Dundar, più semplicemente, è un giornalista coraggioso, molto conosciuto nel proprio paese, che ha dovuto lasciare, dopo tre mesi di carcere ingiusto, un attentato. Abbiamo un governo molto aggressivo, spiega Can Dundar, che vuole governare lo Stato senza rispettare alcuna regola democratica, aggredendo le strutture dello Stato. Noi stiamo combattendo contro tutto questo. C'è una specie di lotta permanente tra chi sostiene l'autocrazia e chi invece sostiene la democrazia. Il mio paese oggi è la più grande prigione di giornalisti al mondo, ha detto Dundar. Fare il giornalista, operare nell'informazione, è rischioso, ma è anche necessario. È davvero rischioso e pericoloso, in generale, operare nei media. Ma allo stesso tempo è giusto, in questo momento, dimostrare il nostro coraggio e dimostrare il fatto che il giornalismo è necessario in queste circostanze. Ogni tipo di sostegno, ogni segno di solidarietà per noi è molto importante e prezioso in questo momento, perché non vogliamo sentirci soli. Vogliamo sapere che tanti sostengono la nostra lotta democratica, in Turchia e ovunque. Le forze che operano contro la democrazia, ha concluso Dundar, non albergano soltanto in Turchia. Ci sono varie ragioni. La Turchia non è l'unico paese sotto pressione. L'onda populista monta in ogni parte del mondo e tutta l'Europa è alle prese con il populismo. È un problema globale che richiede soluzioni globali.